8.000 di arte, arte! Oh mio Dio! Non puoi restare viva! Ecco, infatti è morto. È morto. Non è morta! No, non muore tantissimo! Ma è morto! Vediamola! Oddio! Vaporisassion! Ci ha lasciato dei proiettili! Ha capito la signora! E lui può il fruicello pure! No, fa partire l'amministrazione! Dobbiamo andare! Aspetta un attimo! È il medico andato là dentro! Sì, sì, no, aspetta un attimo! Voglio capire! Madonna mia! Allora, guardati un attimo intorno! E dimmi se vedi qualcosa che si muove! Perché sicuramente... No, 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 non gli sparare! Non lo prenderai mai! Dobbiamo cercare qualcosa che si muove! Perché lo abbiamo vicino! C'è point! È una bella cosa! Molto bella! Allora, uno è là sopra! Ma mi sa che... Tieni pronto! Cazzo, devo trovare un riparo! Ah, ma non ero un nemico! Sali, sali! Ah, no, 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 no! Cos'è un maiale? Un maiale? Che succede se lo picchio? No! No, poverino! Ah, stai zitto! Sporco maiale! Le tue carni servono per ciparci! Il prosciutto! Ma rompi qua, ma poi! No, non posso! No, no, no! Ma quel maiale non mi... Dai, guarda da me! Io vedo cosa muoversi là! No, è corrente! Cos'è? No, no, non è corrente! Sono quello che tira le catene! Aspetta! No, voglio andarlo a vedere! Allora, però se tu con la telecamera mi dici una mano! Vabbè! Ma poi i proiettili sono... No, sono una bottiglia di un merda! Allora! Che cazzo è? Va bene, aspetta! Guarda un attimo intorno! Guarda un attimo intorno! Ok! No, no, no! Guarda un bottiglio, guarda un attimo intorno! Guarda in basso che non c'è un cazzo! Ah, ah, ah! Sali! 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 Ok! Eh, sali la veloce! Madonna! Può pure salire! Voglio vedere quel tizio che cazzo sta facendo! Guarda in basso! Lo vedremo, lo vedremo! Guarda in basso a sinistra! Lo vedremo, lo vedremo! Forse è qua le scatole! Rompi le scatole! Rompi le scatole! Ci sono tante cose! Vedi? Cazzo! Ma è enorme! L'hanno legato! Sparagli in testa! Sparagli in testa! Aspetta! Aspetta! Si muove un attimo! Non voglio spiegare colpi! Non si fa nulla! Devi sì che di merda non vibrare, eh! Non si fa nulla! Sali la veci! Aspetta, 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 aspetta! Secondo me deve uscire prima o poi, eh! Dobbiamo batterlo! Cos'è? Che sta succedendo? Nella scala! Nella scala! È stanco, è stanco! Con calma, eh! Abbiamo soltanto ticcio con la motosera! Sì, una trappola! Non l'ho mai vista, la trappola! Giro, giro, tondo! Sali! No! Lo sapevo! Non dobbiamo entrare là dentro! Allora! Dobbiamo andare dal fuciliere! Dal fuciliere! Sì, dal famoso! Dal famosissimo fucilere! Gli attivi dell'orda! Ammetto che quando è partita la musica, più o meno immaginato, eh! Io l'ho mai immaginato! Sì, ma non possiamo morire ogni episodio, eh! Aspetta, aspetta! Fai in giro, bravo! Io là dentro non ci vuole mai! Tieni premuto! Tieni premuto! Aspetta, tieni premuto a barra spaziatrice! Ma non mi interessa vederlo! Sto sparando! Sto sparando! Ti ti prendi! Ma sei un cretino! Spara in testa! Non so se l'hai ucciso, ma non credo proprio! Ci ha visto, ci ha visto, ci ha visto! Mentre ricarichiamo la... Qua pirla ci ha sparato! Spara, gli spara, gli spara, gli spara, gli spara! Ma sei! Ma sono zombie! Vabbè, spara! Ne abbiamo uno dietro! Ah! L'ho capito! No, ma non dovevi spararlo! Abbiamo fallito se non è qualche cosa! No, non abbiamo fallito niente! Eh, ammazza! Ti ha ucciso lui! Con un colpo di... È detto un colpetto! Ma porca troia! Ma che gioco di merda è! Vabbè, sì! Dobbiamo prendere spazio quando dice apri spazio e lui lo guarda con... Vabbè, che cosa fai guardando? Eh, vabbè, non ti spara! No, no, no! Spara! Fida di che spara! Si, spara! 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 Fida di che spara! Io sono deficiente qua che si sa! Oh, per cazzo! Devo trovare un riparo! Che sì, tu sorello! Tu sorello! Allora, se ne... No, no! Corri! Ok! Allora, ora... E' come stanco! Madonna! Un cretino! Un cretino! Ricarichiamo! Sparagli, però prendila in testa stavolta! Allora, prendila in testa! Perfetto! Ancora! Ah, non muoverse! Non muoverse! Vale! Perfetto! Uh, prendi il fucine! Non puoi! Non posso! Ma aspetta! Per ora lo spara a quelli! Li abbiamo vicini! Perfetto! Sparagli ancora! Forse è che cade, no! No, no, no! Perfetto! Ma che cazzo c'era la testa d'amianto? Ma porca troia! Oh, è tua sorella! Ok, aspetta! Raccoglio! Ma cos'era? Sono raccolto! E' il fucile, voglio! No, non lo puoi prendere! Ci hanno visto, Marco! Dove sono? Non lo so! Ah, là, là, là! Sparala, tizio! Marco! Non posso, non posso! Non ho le cose! Devi prendere l'inversario! Dai che rompe la porta! Salve! L'hai bruciato! E la lascia pure! Guarda! Se lo nasce! E si è rotta pure la... Ma sti cazzi, ma un colpo solo puoi dare? Ma quanto pare! Che merda! Scendiamo e ammazziamola! Sì, vai, vai! Andiamo a ammazzare con la polla! S'valbrina! Dove cazzo sei? Traio! Un colpo! E qua come ti apre? Oh, guarda! Ma dai, che schifo! Ci siamo pieni di melma, putridume! Aspetta che la bruci... è di salire qua in qualche modo! Esamina! Esamina! Eh, ti pare! Ottimo! Ci sarà qualcosa che riesca ad aprirlo! Eh, ovviamente! Penso pure! Una motosega magari! E dice... Una motosega! Eh, no! Ma io qua non vedo nessuna motosega! Ma dubito fortemente la motosega la trovi vicino al punto 9! Eh, dentro! Dobbiamo entrare nella... Lo dubito fortemente, Zymar! Oh, casse! Rompiamole! Rompi le casse! Rompi le casse! Oh, due proiettili! Ottimo! Speri, ricarichiamo! Sì, abbiamo sei proiettili! Vai, guardate un attimo sulla destra! Uno scaffale! No, non è una ronda! He is watching, we can't live! Lui ci sta guardando! Non puoi vivere! Eh, non puoi... Live! You can't live! Non puoi... Ah! C'era la traduzione! Ci osserva! Non possiamo andarcene! Siamo proprio bravi! Via queste robe! Cos'è quello? Una chitarra! Una chitarra! It's a fucile pompa! Yes! Questo tipo di canna... Fa male alla salute! Ah, fa male alla salute! Ok, prendi... Il fucilone! Prendi il fucilone! Ma non me ne fotte un cazzo! Certo, non è che c'è un mirino, eh! Ce ne sono... Melma! Ma è versione enorme! 500! Minchia, melma gigante! Qua c'è nulla! C'è nulla! Cos'è questo? Bottiglia! È una bottiglia di rum! La tira! Ah! Vabbè, aspetta che te lo tiro! Ok, grazie! Allora, spaziatrice usa, vediamo! Mi ha detto di una bomba! Che è successo? Non lo so! Si è aperta sta porta? Ma sicuro ne sei? No, adesso... Sali, vedi... Dove dobbiamo... Scusi! Ma non è che si è aperto? No, 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 siamo dove era prima, no! Ancora non si sia aperto! Sì, sì, no, non si è aperto! No, dobbiamo trovare la motosega! Ma la motosega la troviamo da quello? Secondo me è di qua dentro, magari salendo! Anche perché se ci do un fucile a pompa! Ecco... Eh, qua che cos'è? Di nuovo! Non vorrei che siano trappole Non vorrei che siano trappole Oh, proiettili! Abbiamo quattro colpi del fucile Cazzo, eh? Marra spazia il dico, racconto No! Sì! Piegate le schede, però è anche molto pesanti Niente, balestra con i... Esplosivo Dardo esplosivo Della balestra agonia Che si innesca all'arrivo Dei nemici Si può colere sui pavimenti E sui muri E persino sui nemici stessi Perfetto, prendi il fucile Vabbè, no, non lo prendo Tanto finora Facci, sono proiettili Magari sono del fucile No, no, manco Ah, fiammiferi, dai Rompi colpi No, non si rompa Non si rompa Non si rompa Cosa, 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 cosa Aspetta Entra, entra Che sta succedendo? Ok I dardi Gli arpioni Mi domando dove cazzo Se ne infilo tutte ste cose Te lo dico io dove Lo sai dove è la motosega? Ti ricordi quando abbiamo perso? Si, si L'abbiamo in mano quel tipo E quel tizio là Dobbiamo ammazzarlo Non so dove sia Ma È nel fionile Ma è nel fionile Quando abbiamo fatto casino Eh, no, ancora lì Ci sono nemici Do Ci brucia Bruci qua Bruci qua Bruci qua Ah, brucio qua Ok, no, no Lo sprechiamoli All'aspetta Andiamo Sono nemici Do Aspetta Guarda sulla Sì Ah, là c'è Là, ce n'è uno Vedi se è la motosega No, no, no Non c'è la motosega No, vabbè Non c'è un ufficio La pompa Lì, lì, prettino Non ci arrivano Ma manco Se gli elitiri con le mani No, non c'è la No, no, no Prendi Prendi No, no, no Prendi la pistola C'ha visto C'ha visto C'ha visto C'ha visto Uno spreco Usare Se non so Usiamo gli arpioni Porca troia Mi spieghi che è successo Non lo so Però io devo racchiere la melma E sta arrivando qualcuno Perché ci ha visto Quindi guardati Ma mi spieghi che è successo Marco Guarda un'ottima terra Marco guarda un'ottima terra Ma che cazzo Era una trappola Non lo so No, non lo so Era una trappola Te lo dico io Dobbiamo entrare qua dentro C'è il pianile Aspetta 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 Dici Brucia Fammi vedere cosa vuole bruciare Lui Ok bruciamo Magari droppa qualcosa Droppa qualcosa Stupido Dammi la tua melma Stronzetto Ha droppato Ha droppato Non mi dire Non ha droppato Non ha droppato una mia Attenta alla trappola Ti l'ho vista Disarmiamo la trappola Perfetto Ok Ci sono porte qua? No Non c'è nulla Aspetta Guardalo un attimo Decentemente Perché visto così Non ho capito Che cazzo Ecco appunto Tua sorella Tua sorella Tua Aspetta Disarmiamola Ok Una volta che è scattato Ok Non c'è nulla Perfetto Guarda sulla destra Ok c'è una porta Melma Oh melma Oh due melme 1.6 1.9 Proiettili L'abbiamo al massimo Porca Spero Ricarchiamo Siamo al massimo Di proiettili Barra spezzatrice Esamina Ok Accoglio Perfetto Andiamo Ok perfetto Dobbiamo entrare nel fienile Ovviamente Dobbiamo entrare nel fienile Però Aspetta Fammi Cos'è che si rompe? Non lo vedo Guarda in alto Stanno scendendo Forse Guarda la scala No Ah no Ci ha perso d'occhio Vuoi vedere che è là sopra? No Intanto rompiamo ste casse Dai Guarda le casse Dove stanno? Guarda le casse Qua Qua terra Qua terra Qua terra Perché stai guardando? Ok Oh melma Madò che bello Guarda dov'è No cazzo Madonna mia Cioè L'ha proprio mangiato Il proiettile Cioè Ho perso un po' di ketchup sopra E l'ha mandato giù Mamma mia Aspetta Ricarichiamo Troppa qualcosa Tipo la melma Tipo nulla Tipo nulla Grazie Grazie Aspetta Non abbiamo prenduto i proiettili Bene per te Non lo so Ci serve una motosega Ma dovremmo andare ad ammazzare quel tipo Eh Dobbiamo Ci tocca No no A me non mi tocca nessuno Forse a te Ti tocca quello La motosega Io Sei un birbante Sei un birbantello Guarda che bella scala Guarda a terra Io però Sai che cosa prenderai Il cucina pompa Per quella merda Con la motosega Ah quello sicuro Aspetta guarda Sto cosa a sinistra Aspetta Però lo devi guardare Marco Sinistra In alto In alto In alto In alto No niente Non c'è niente No ma non c'è niente Allora Dovremmo andare qua Ma che c'è brucia Eh porca troia Ma che c'è brucia Aspetta Dobbiamo andare nella porta del dottore Vediamo se nella porta del dottore Si può aprire Ok aspetta Sulla destra Sulla destra Sulla destra Ok Apri la porta del dottore Guarda dov'è Girati di qua Non mi dire che sta uscendo Prendi il fucile a pompa Oh è spazio Sì sì Non si fa Cattivo Cattivo Sì 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 Uh double headshot Il gas strano Un double headshot Ne basterebbe uno Non anche tutti torni C'hai ragione Perfetto Sì è una palla All'ordine Ma gli hai fatto malissimo Cioè stai capendo finalmente adesso come si mira Aspetta che bruciamo ste cosi Magari Sì quando il mouse non è il tuo È sempre complicato abituarsi Bah Bottala 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 Se bottiglie sono inutili C'è ancora il vino dentro Eh certo Guarda un attimo intorno Non c'è nulla qua Vabbè si ho rotto le finestre Rompi 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 Vabbè devo rompere i coglioni Eh sì Eh sì Appunto Nulla Non ha droppato niente alla puttana Saremo un attimo sopra Vediamo cosa c'è sopra Le ombre che si caricano dopo Fanno paura Le ombre Ah ah Era qui Ah una bottiglia Vai una bottiglia Non ci interessa Permesso Oh melma Yes E famina Eh vai la lui Ma che cosa è sta roba Che cosa è sta roba Eh un nastro Sì lo so cos'è E forse Le valutazioni Qualcuno che è rimasto lì Poco me ha Ok 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 signore Ok c'è in po' di parere Questi qua sono Dei Aspetta guarda in basso Va bene il registratore L'abbiamo già usato L'abbiamo Dice di salire Oh raccogli Questa cazzo è raccolto Kit medico Oh Sì Grosse siringhe Però Allora Aspetta che possiamo fare con quello Noi dobbiamo avvicinarci Usa Usa no Usa sto cosa Aspetta Per aprire la spazza Sì sì Come se l'avessi già sentita Per fare il giro No La porca No la porca Ok Ah non c'è un cazzo No di qua ci siamo arrivati Apri Cos'è Uuu Pallettoni Pallettoni Guarda un attimo Guarda un attimo Per vedere se c'è No non c'è nient'altro Ok Perfetto Qua sopra no Vediamo cosa c'è qua Oh questo si è Oh si rinche Si rinche No 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 Pallettoni No ci abbiamo I dildi Aspetta Aspetta Ti metto il fusile a pompa Guarda qua che affarci Mi frega Non abbiamo sparato un colpo ci sono dei colpi è permesso salve ok un giro non possiamo salire non possiamo salire ma che cosa è scusate che lo pensano permesso ok vai usciamo scusate ma un giro continuo vabbè ok scendiamo alla buona vecchia maniera no scendiamo permesso scusi perfetto sulla sinistra non c'è nulla ok scendiamo perfetto oh un arpione guarda la parete perfetto eccolo la abbiamo al massimo abbiamo tutto al massimo qua non c'è nulla non l'abbiamo già controllato sì dobbiamo dobbiamo prendere la motosega è inutile è inutile eccola aspetta la sinistra puttana porca puttana spara gli 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 spara come può fisicamente sopravvivere sopravvivere a due colpi di fucile a pompa in faccia 10 centimetri di stanza se usiamo maiuscule ah pescato no vabbè lo sappiamo ma se usiamo l'arpione una bella arpionata in testa nel prossimo episodio quindi ragazzi se il video vi è piaciuto come se mi lasciate un pollicione su qui sotto al video se sapete se mi stesse sparando in testa lasciate un commentino qui sotto al video dateci una mano che cazzo dobbiamo fare non lo so non si capisce non si capisce noi ci vediamo in un prossimo video vi voglio bene e ciao ciao allora e quindi ragazzi merda è una merda questo gioco è una merda merda